Ciao, io sono Gabriel, sono qui per fare complimenti a Pisa per 10 anni di storia. È stato un onore indossare questa maglia in 2018. Grazie mille a tutti i staff che mi hanno fatto stare lì, Romina, Peli, Ale, Fabrizio, grazie mille. E soprattutto grazie a tutti i giocatori che sono stati lì insieme a me, in particolare a Marinai, Valini, Bassoci, anche Casapieri, che era mio compagno di Futitavola prima dell'allenamento. È veramente stato un onore e complimenti a Pisa per i 10 anni di storia. Ciao ragazzi, ci vediamo presto, arrivederci.